Porgo il mio saluto in maniera particolare anche il saluto di Monsignor Ruffino che attualmente si trova a Roma, quindi mi sento onorato anche di in qualche modo sostituirlo, farne le veci e ringraziare a suo nome, a nome della parrocchia per questo invito. In maniera molto simpatica, non ritrovo più chi prima mi ha detto Dio una bella benedizione, ma io garantisco che le benedizioni sono sempre belle, perché il lavoro è il primo comando che Dio dà all'uomo, lavorerai la terra, la soggiogherai ed essa ti darà il suo frutto. Sa quali fortuna, perché poi c'è l'ingegno umano che va messo bene a profitto in base alle proprie capacità, ma è perché l'ingegno umano sia usato a lode e gloria di Dio. E qual è la lode e la gloria di Dio? È il servizio tra stessi simili, quindi sicuramente il servizio che in maniera particolare una banca può offrire quanto più ha bisogno di essere aiutato per essere un buon servizio per chiunque qui accorrerà.